Dopo l'edizione classica, terminata i primi di agosto, Maria De Filippi ha deciso di lanciare l'edizione di Temptation Island VIP 2018. In onda da martedì 18 settembre su Canale 5, torna l'edizione famosa del programma. Dopo i picchi di share del 22% viene proposta la versione famosa che vede alla conduzione l'esplosiva Simona Ventura, che racconta le vicende delle coppie che hanno deciso di partecipare all'esperimento d'amore più famoso d'Italia. Tra i concorrenti anche il suo ex marito Stefano Bettarini, accompagnato da Nicoletta Larini. Insieme a loro parteciperanno Valeria Marini e Patrick Baldassarri, l'ex tronista Anilu Faradati con Giordano Manzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e infine Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Ma in quale location le coppie si sono messe alla prova? Dove si trova il villaggio di Temptation Island VIP? Ma in quale location le coppie si sono messe alla prova? Dove si trova il villaggio di Temptation Island VIP?